Il Dipartimento della Protezione Civile è da sempre proiettato verso i bisogni di chi è affetto da disabilità e attraverso un gruppo di lavoro e progetto abili a proteggere ha rivisto tutte quante le pianificazioni operative e le proprie procedure per consentire di considerare nella attività di previsione e prevenzione nella gestione dell'emergenza quelli che sono i bisogni delle persone diversamente abili. In questa scia voglio ricordare che abbiamo attivato anche un percorso per i non udenti per accedere al nostro contact center. Mi vengono in mente quei momenti in cui nel primo periodo del lockdown tenevo le mie conferenze stampa quotidiane e in particolar modo ad un giorno nel quale un giornalista mi rivolse la fatidica domanda cosa fa la protezione civile per il mondo della disabilità. Ebbe in modo di spiegare che la protezione civile con i propri volontari è vicino a chi soffre e in modo particolare chi è diversamente abile. Rispondendo a quella domanda ho avuto la fortuna di incontrare due amici, il primo l'ex ministro Antonio Guidi che ritrovai la settimana dopo seduto in conferenza stampa e col quale interagimmo su quella che era l'attività che la protezione civile portava avanti a favore delle persone affette da disabilità e poi una importante conoscenza per me scoperta è il mio amico Elio, padre di un ragazzo portatore di handicap che si rivolse a me per esprimere tutto il disagio che le famiglie con portatori di handicap avevano durante il periodo del lockdown. Voglio concludere rivolgendo a voi tutti quanti un caro saluto e rassicurarvi che la protezione civile è al fianco di tutti e in particolar modo da chi ha bisogno e quindi anche da chi è affetto da disabilità.